Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo come far crescere le unghie più velocemente con l'iva cream. Infatti è un ottimo balsamo unghie. Le mie unghie sono cresciute un pochino, come potete vedere. E io ogni giorno le vado ad idratare. In questo modo. E oggi salutiamo questa mia iscritta, Albana, per avermi iscritto su Instagram. Se volete un saluto, vi basterà mandarvi lo screenshot del video che state guardando su Instagram. E ovviamente io poi condividerò tutto. E nulla, io spero di esserti stata utile. Iscriviti al canale e lasciami un commento qui sotto. Io ti mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!